In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù, né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse, va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima perché era un mendicante dicevano, non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano, è lui, altri dicevano, no ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva, sono io. Allora gli domandarono, in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose, l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto, va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero, dov'è costui? Rispose, non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano, come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco, tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose, è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono. E questo è il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero, sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Ma come ora ci veda non lo sappiamo e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero, all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose, se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero, che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro, ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? volete forse diventare anche voi i suoi discepoli? Lo insultarono e dissero, suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo, proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono, sei nato tutto nei peccati e insegna noi, e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose, e chi è signore, perché io creda in lui. Gli disse Gesù, lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse, credo, signore, e si prostrò dinnanzi a lui. Gesù allora disse, è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero, siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Il cieco viene tempestato di domande dai farisei increduli. Loro non accettano che questi sia venuto alla vita, sì perché il cieco non solo torna a vedere, ma rinasce. E i farisei non lo accettano, primo perché è nato sotto i peccati e secondo perché è stato guarito da un peccatore, da un fuorilegge, che sarebbe Gesù. I farisei devono far tornare dei conti che non tornano e mettono sotto accusa il cieco miracolato. Ma cosa volete che gli importi a quell'uomo? Al di là delle lucubrazioni mentali, degli studi teologici, della poco, tanta cultura che ha rispetto ai farisei, lui ha cominciato a vedere. Quindi Gesù, che sia un peccatore secondo la legge mosaica, oppure no, cosa volete che gli importi? Lui sa che prima non ci vedeva e adesso ci vede. È sufficiente questo. Gesù ha cambiato la sua vita con un gesto che tanto assomiglia al primo gesto della creazione, quando Dio prese acqua, la mescolò col fango, espirò lo spirito e lì nacque l'uomo. Così Gesù, con un po' di saliva e di fango e toccando gli occhi, ha fatto nascere l'uomo nuovo nel cieco. E i ciechi sono diventati coloro che pensano di vedere perfettamente, fin dentro le profondità dell'anima, al punto di permettersi di giudicare gli altri e di bollarli come ignoranti, ciechi, stupidi, maledetti dal Dio. D'altronde Gesù lo aveva sentenziato. Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Grazie.